Prevenire l'osseoporosi e limitare il derivante rischio di fratture osse. Questo l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa dal Rotary Club di Lecce, arrivata al secondo dei tre appuntamenti in cui, con prenotazione del tutto gratuita, vengono eseguiti esami densitometrici utilizzando il dispositivo Ecos prodotto dall'azienda leccese Ecolight. Il Club Rotary di Lecce, nell'ambito del conseguimento dei propri obiettivi strategici, ha organizzato questa campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell'osteoporosi e del rischio di fratture. Si tratta quindi di sottoporre le pazienti che ne facciano richiesta ad un esame densitometrico gratuito, naturalmente, realizzato secondo una metodica innovativa con una macchina che si chiama Ecos, che tra l'altro viene prodotta da un'azienda leccese di eccellenza che si chiama Ecolight. E quindi per noi è un doppio motivo di soddisfazione realizzare un service che va incontro alle esigenze della collettività. Si tratta di un metodo innovativo, primo al mondo, basato su ultrasuoni che, mediante una scansione ecografica, permette di effettuare una valutazione ossea immediata. L'osteoporosi è una delle mattie più numerose nel mondo e la complicanza che determina è la frattura. La frattura comporta, da un punto di vista, un impatto socio-economico altissimo. Pertanto è importantissimo fare una diagnosi precoce e la diagnosi precoce si fa misurando la massa ossea. Questo nuovo apparecchio, che è l'unico al mondo, ci consente di misurare la densità ossea, non solo attraverso gli ultrasuoni. Questo pertanto può essere utilizzato non necessariamente da radiologi, ma da qualsiasi medico.